Quando viaggiate non sottovalutate l'importanza dei souvenir, oggetti di dubbio gusto, spesso decisamente kitsch, che però nel loro piccolo racchiudono storie molto più ampie di cui sono riassunto e simbolo, quasi degli stereotipi, come questa balalaica. L'ho comprata durante un viaggio in Russia nei magazzini GUM sulla Piazza Rossa a Mosca. Questi magazzini che sorsero circa 125 anni fa con la funzione di emporio in cui si trovavano merci molto varie, che poi nel 1928 venne convertito in quartier generale del partito da Stalin per poi riacquistare la sua funzione commerciale negli anni 50, ma a quel punto vi si trovavano merci molto scadenti. Oggi invece i magazzini GUM sono l'emblema del lusso, del lusso più esclusivo, qualcosa a metà strada fra Disney World e il triangolo della moda a Milano e vi si trova veramente di tutto. Torniamo però alla nostra balalaica che lì ho comperato. C'è dentro il carillon, tanto per renderla il più kitsch possibile, il carillon che si aziona, vedete, con questa piccola manovella e la melodia che ne viene fuori è Catiuscia, questa canzone popolare russa che tutti conosciamo, anche perché in Italia è stata tradotta in fischia al vento e poi ci sono anche delle versioni goliardiche su cui è meglio sorvolare. Nasce, dicevo, nel 1938 questa canzone contro la guerra, racconta la storia di Catiuscia, questa ragazza disperata perché ha il fidanzato al fronte e quindi teme per lui. Purtroppo però, nonostante sia nata contro la guerra, questa canzone dà il nome ai lanciarazzi che l'esercito sovietico montava sugli autocarri, Catiuscia appunto.